Ciao a tutti, oggi prepareremo i tartufini di pandoro con nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono pandoro tagliata a pezzetti, panna fresca, nutella, granella di nocciola e cioccolato fondente. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pandoro. Chiudiamo con il coperchio ed il misurino e facciamo tritare per 40 secondi. A velocità 7, spadolando di tanto in tanto. Riuniamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo la panna. Facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Trasferiamo l'impasto in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo, prendiamo un po' dell'impasto, schiacciamolo. Posizioniamo un po' di nutella al centro. Chiudiamo. E formiamo una pallina. Continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Procediamo decorandoli con cioccolato fuso o granella di nocciole. e riponiamoli all'interno di pirottini di carta. Posizioniamoli in frigo per un'ora prima di servirli. Tartufini di pandoro con nutella. Si conservano in frigo per 2-3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.